Oggi è una puntata speciale perché vedremo il meglio dei video di Citizen Journalist video amatoriali del 2009 e poi vediamo anche qualche previsione sul 2010 che vediamo insieme. Allora, cominciamo con i video. I video che sono arrivati sono tantissimi, alcuni peraltro sono arrivati direttamente a Sky TG24 che li ha mandati in anteprima, poi hanno iniziato anche a girare online e poi come avete visto su YouTube, su Facebook, su tantissimi siti di video sharing, quindi di condivisione di video, è uscito molto materiale. In questo caso abbiamo un video amatoriale, quello su cui stavo riflettendo era primo vedere come i video che arrivano dagli utenti poi alla fine sono sempre più professionali, tra virgolette, quindi c'è un'attenzione maggiore e soprattutto facendoli si impara anche di più, sia come inquadrature sia come contenuti. Quindi questo è interessante. L'altro aspetto è che poi con le immagini amatoriali si vanno a aprire anche le diverse edizioni del TG.